Uno di notte c'è il coprifuoco e pensare che all'inizio sembrava quasi un gioco Ora non c'è più tempo per pensare, tutti dentro chiusi ad aspettare Ognuno ha avuto le sue razioni, poveri e ricchi, cattivi e buoni Ognuno ha fatto le sue preghiere, ora si tratta solo di aspettare Bravi sono, bravi ragazzi, ma non è il caso di accettarsi Bravi sono, fate, bravi ragazzi, vedrete che poi sistemeremo tutto Per fronteggiare la situazione c'è stato un programma alla televisione Hanno parlato tutti gli avvocati, di tutte le bandiere, di tutti i partiti Ed è stato proprio commolente vedere tutti quei grandi e sacrificare le proprie idee in nome del bene della gente Poi hanno dato le sue vere istruzioni, di stare calmi, di stare buoni Buoni sono, buoni ragazzi, ma non è il caso di accettarsi Bravi sono, fate i bravi ragazzi, vedrete che poi Poi sistemeremo tutto Fate i bravi ragazzi Grazie a tutti